Cina, scoppia il virus, quarantena da subito, sospensione attività lavorative, esercito per sanificare le strade, costruzione ospedali in dieci giorni. Italia, 22 febbraio, arriva il virus. No, ma non è virus, è che non ti sei messo la maglia della salute. Muore settantenne, ottantanovenne, novantenne. Eh, ma tanto erano vecchi. Altri morti, ma stavano già con un piede nella fossa. No, alcuni stavano bene. Allora il virus, zona rossa, scappiamo dalla zona rossa, svaliggiamo il supermercato, le pennellisce no, mettiamo in piedi la scopa, facciamo la mucchini in casa, chiudiamo le scuole e allora andiamo in vacanza a sciare. No, siamo in quarantena e chi se ne frega, andiamo a sciare lo stesso. No, ma non devi andare in vacanza, a casa devi stare, non andare dal medico, non telefonare al medico, attiviamo lo smart medico. Ma quello non era lo smart working. Riapriamo le scuole, chiudiamo gli stadi, riapriamo gli stadi, rimandiamo le partite, richiudiamo gli stadi, richiudiamo le scuole, tutti in discoteca. Guardate che riapriamo le scuole, allora tutti in discoteca lo stesso. Chiudiamo le discoteche, metti la mascherina, togli la mascherina, metti la mascherina se tossisci. Ma io stavo sbadigliando, allora fai mettere la mascherina a quello che non sbadiglia. Ma è morto. Ah, ah, ah. Vendesi mascherina usata solo una volta. Apriamo le zone rosse piccole e facciamo le zone rosse grandi. Le zone arancioni e le zone così e così. E io me ne scappo al sud che c'è un solo, un mar, la parmigiana, mamma e soprattutto non c'è un virus. Ma non ci sono i posti letto. Pazienza, piglio l'asdraio. Sì, ma Cristo, Cristo lo puoi vedere in streaming sul canale YouTube del Papa. Non ci dovete andare al sud, cazzo. Allora tutti a Riccione. No, non si muove più nessuno. Un, due, tre, stai là, ti ho visto, ti sei mosso. Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Vado al lavoro con l'auto. L'auto non basta, ci vuole l'autocertificazione. Ti ho scoperto, tu Bari. No, Catania. Fuggi da Catania? No, dalla casa circondariale di Piazza Lanza. E siamo solo a mercoledì 11 marzo.